La situazione è critica, non criticissima, quindi voglio rassicurare un po' tutti. Non è una situazione tipo quella di, per intenderci, che abbiamo vissuto a Pescara a marzo e ad aprile. È una situazione critica che ci induce ad essere prudenti, perché il problema non sono i numeri di soggetti positivi. Il problema è rappresentato dalla capacità degli ospedali di poter ricoverare soggetti in insufficienza respiratoria e soggetti che richiedono invece il ricovero in reanimazione. Il problema è quello. E quindi, già abbiamo visto che l'esserci un po' fermati ha determinato un rallentamento della circolazione del virus, se vince dall'RT che sta in diminuzione, si è deciso di fare questo passo ulteriore per garantire la salute fondamentalmente. E ci sarà la possibilità per le attività produttive di avere un respiro di sollievo per il periodo natalizio, che sappiamo essere nel periodo invernale, il periodo dove normalmente si fanno più spese. Quindi, diversamente, se non si fosse bloccato tutto, in questa fase interlocutoria del mese di novembre, avremmo potuto avere dei problemi più importanti, con ricadute importanti anche nel periodo natalizio. In queste ore la Regione sta valutando anche se adottare misure ancora più restrittive di quelle imposte da Roma, ad esempio la chiusura delle scuole, anche di quelle che vanno dall'infanzia alla prima media, che altrimenti per il DPCM potrebbero rimanere aperte. Chiudere anche le scuole dei più piccoli sarebbe utile in questo momento? Secondo noi sì, perché abbiamo visto che quando si vanno a fare i tracciamenti dei casi, si è visto che in questa fase, poi alla fine, l'untore purtroppo è stato il giovane o giovanissimo studente. Quindi purtroppo la scuola è un momento di unione, però anche diciamo, momento diciamo nella fase della vita di una persona importantissima, perché è grazie alla scuola che noi stessi e la nazione riesce ad evolvere sempre di più. Però purtroppo si tratta di fare questo sacrificio perché si è visto appunto che proprio nelle aule scolastiche circolerebbe di più il virus, quindi interrompendo decisamente la catena delle infezioni, anche chiudendo gli asili, chiudendo le scuole elementari, probabilmente otterremo un risultato ancora più importante.